Allora, voglio darvi subito una bella notizia, intanto lo metto con un disegno fatto con i Beast Paint, ditemi se mi piace, vabbè, abbiamo fatto pace, io e Revenge ne abbiamo discusso, ho detto scusa non succederà più, basta solamente che, poi mi ho detto che mi perdonava, ma basta che non succedano più queste cose e che mi lascia in pace, quindi allora, ho cancellato i video e gli ho chiesto scusa, quindi questo video con uno sfondo di un disegno fatto da me, con me ed Erika, è tutto, ci vediamo, almeno chiedo una cosa a Revenge, almeno all'amico di Revenge, non mi ricordo come si chiama, tipo Luigi qualcosa, scusa, scusa se non ricordo il tuo nome, comunque solo per dirvi, qualcuno dice che io ho 11 anni e no, ne ho 13 e quest'anno ne faccio 14, quindi vabbè dai, vabbè dai, spero che almeno togliate le segnalazioni di dislike per favore, non mi chiedo altro, comunque per dire a Luigi, adesso non voglio far partire un'altra cosa così, lo avverto, però almeno ditemi se mi... perché io ne sono sicuro di sta cosa, io non ho messo dislike all'unico video di Revenge, quando nel video l'ho menzionato e sono andato nel suo canale, quindi per favore, quindi per favore non te la prendere, potrò anche aver sbagliato, potrò anche, mi potrei anche sbagliare, quindi con oggi una giornata con ben 4 video, uno normale, un altro così, in questo modo, è tutto, da me da me e tutti gli altri, ma che questo, vabbè, da me è tutto, ci vediamo a un prossimo video, ciao